In un lieto clima natalizio sono state presentate dall'Ilium Benessere le recenti innovazioni che rappresentano le nuove frontiere dell'estetica e della bellezza. Per chi ama prendersi cura di sé, è stata pensata un'intera giornata dedicata alle innovazioni per i trattamenti viso, la cura delle unghie e il benessere. Un perfetto connubio tra esperienza e progresso è sintetizzato nel trattamento antietà PlaySkin. Si attiva direttamente dal proprio smartphone per prolungare nel tempo il trattamento eseguito in istituto. Con l'impiego di soli 10 minuti ci si può dedicare del tempo per questo trattamento, eccellente sia per donne che per uomini. PlaySkin è pensato anche come originale e gradito dono da fare trovare sotto l'albero a Natale, a chi si vuol bene. Un'altra importantissima innovazione di respiro internazionale nel settore dei prodotti delle unghie è Briefable. Si tratta di un unico prodotto che esegue un trattamento più colore per unghie danneggiate. Si potrà dare così respiro alle cellule delle unghie lasciandole riposare, senza però rinunciare all'eleganza, alla raffinatezza o alla trasgressione del colore. Salute Glamour per mani sempre perfette e per il benessere a tutto tondo è arrivato dall'Ilium Benessere My Spa, il rituale di benessere relax che consente di poter scegliere fra tre diversi percorsi, quello che si adatta meglio alla personalità di ciascuno. Dall'Ilium Benessere continua inoltre la promozione L'Ilium Premi all'amicizia, che consente di usufruire di uno sconto su tutti i servizi fino al 50%. È così possibile acquistare servizi di altissimo livello a prezzi contenuti. Per Natale regala il benessere, regala un sogno nel mondo di L'Ilium Benessere.